ciao emis bella lì niente io sono contentissimo di averti qui perché come ti dicevo prima sei artista che hanno citato tutti in ogni intervista e quindi dimostra anche l'influenza che ha avuto nelle nuove generazioni io come ti dicevo prima io ti ho scoperto una sera ero piccolino una sera su youtube e il pezzo si chiamava non fa per me e già ai tempi siccome il rapper ha comunque poi per ma che veniva della provincia avevo un'idea di rapper a baggy tutti i vestiti larghi eccetera eccetera conosco bene vedi questo ragazzo che ha una cannottiera stretta jeans stretti piercing ovunque dici ma chi è e già ai tempi eri molto criticato una volta fibra parlando di te disse il più criticato di tutti tu pensi di essere stato veramente forse l'artista o il rapper più criticato negli ultimi dieci anni guarda è una domanda a cui non ti so rispondere perché negli ultimi tre quattro anni ne sono come dire ci sono state no facciamo negli ultimi due anni ne sono usciti così tanti anche stravaganti diciamo che mi mettono un po no cioè siamo lì però diciamo che da prima diciamo di questa nuova ondata di rapper nuovi sicuramente sono stato quello un po più bersagliato ma nel bene e nel male attirava l'attenzione su di meno dalla mia ho sempre avuto il fatto che comunque sapessi rappare no sapessi fare freestyle cioè avevo bene o male qualcosa che faceva contento tutti no perché c'era il magari il writer preso bene con i graffiti che era comunque un'altra di quelle cose che andava di pari passo con il rap ai tempi e che magari diceva non mi piace come rapper però mi piace come fa i graffiti perché faceva anche quello quello che diceva non mi piacciono i pezzi ma mi piace come fa freestyle no e poi invece c'era quello che mi accettava diciamo prendeva il pacchetto completo e diceva mi piace come rapper assieme a tutti quelli che ovviamente mi schifavano perché e tu nel corso della tua carriera ottenuto successo quindi un grandissimo riscontro da parte di tutti come hai affrontato le critiche allora inizialmente ma inizialmente in realtà ancora adesso non le prendo sempre bene apprezzo la no in realtà ora bisogna fare una differenza che è fondamentale ci sono le critiche e ci sono i cagacazzo che sono quelli che ti scrivono qualsiasi cosa per darti fastidio no la critica è quella che è strutturata bene che ha se vogliamo anche un fondo di verità e non arriva con astio no infatti ti viene messa giù bene no sono quelli che solitamente ti scrivono un papiro così che però mettono già le mani avanti ti dicono guarda premetto no sono un tuo fan per esempio no ma che ne so non mi è piaciuta questa cosa oppure penso che no allora io quel commento lì me lo leggo dall'inizio alla fine e qualche volta penso anche però non a tutti torti no capisco il suo punto di vista e poi invece ci sono quelli che ti dicono che ne so fai schifo sta canzone è la merda senza dirti perché no allora quelle non sono critiche no però se rispondi a uno di questi dici no guarda che ti dico no ma quindi non accetti le critiche no però non è una critica quello capito no è un insulto gratuito non è come quelli che dicono non puoi bloccare la gente se ti vengono ad insultare perché devi accettare le critiche ma sono insulti non sono critiche no io perché devo accettare di leggere cose che comunque mi fanno venire nervoso a oggi meno perché ho quasi 30 anni però una volta me la vivevo veramente male questa cosa no e però è una cosa comune non so come dire quelli che dicono no non me ne frega niente non è tanto vero capisci cosa voglio dirti no cioè io sono infastiditi io ascoltando il tuo disco o ho scoperto un emis più nostalgico nel senso nemis che ha parlato molto del suo passato ha tirato fuori molto il suo passato un po come dire alle nuove generazioni o anche chi ti ascoltava di nuovo nuovo ascoltatore ora che io nel passato ho fatto tantissimo se non se per te io non sono all'altezza o altro vattene ad ascoltare è una mia percezione oppure no un pochino c'è questa cosa comunque perché inevitabilmente diciamo che appunto sono passati comunque un po di anni io ho iniziato dieci anni fa fare il rap da che diciamo ero forse l'unico diciamo veramente venuto fuori della mia generazione per un po di anni poi sono venuti tanti a seguito no e assieme a queste anche i nuovi fan no quindi diciamo è stato un bene perché comunque è arrivata questa nuova scena diciamo che ha portato una nuova scena anche dal punto di vista del pubblico però questo nuovo pubblico non prende neanche in considerazione e mi schilla e tutti i quali della mia generazione barra scuola no e quindi vuoi dire non vuole essere del nonismo non vuole essere non capisci un cazzo però è forse un più una sorta di ne vale la pena nel senso no c'è tanto altro vattene ad ascoltare e di questo tanto altro se tu potessi scegliere anche solo una canzone da far ascoltare a questi ragazzi tu a quale sceglieresti io sceglierei neve fango me l'hai detto neve fango è un bel compromesso perché comunque è una canzone che può piacere un po a tutti perché comunque tratta un tema che è quello dell'amore che coinvolge anche chi non per forza è affezionato al genere però allo stesso tempo anche una canzone di rap scritta bene secondo me ma non posso scegliere neve fango se no sembra che me l'hai imboccata te ne devo scegliere un'altra intendi qualcosa di vecchio immagino no qualcosa comunque che sia già stato c'era vaffanculo che era forte live vaffanculo un pezzo che valeva la pena ascoltare soprattutto dal vivo perché faceva la seconda strofa a cappella no quindi toglievano il beat e viaggiavo come un treno ed è un'altra di quelle robe che oggi interessano poco secondo me ai ragazzi che vanno ad ascoltare la musica al club no poi roba a usare se oggi la mischilla di tecniche perfette dovesse ascoltare terza stagione tu cosa pensi che direbbe quale sarebbe il suo pensiero sai che me lo chiedo tante volte ogni tanto io quando faccio le canzoni provo ad ascoltarmi da fuori no per capire se mi piacciono veramente dico ok adesso non ascoltartela per un attimo se possibile non me l'ascolto per qualche giorno in modo che quando me la riascolto mi sono dimenticato quello che avevo scritto ed è come se l'ascoltassi un po da fan e però non ci riesco molto perché comunque la mia voce ormai la conosco bene conosce conosco già la mia intenzione la mia attitudine perché ho registrato veramente tanta roba no è difficile pensare a cosa direbbe le mischilla del tecniche perfette se ascoltasse le mischilla di terza stagione perché appunto da una parte non riesco a guardarmi da fuori dall'altro sono passati tanti anni è cambiata la musica no io ai tempi del tecniche perfette ascoltavo il rap che andava allora no cioè non so come dire io per esempio ascoltavo i dipset non sono che adesso sono considerati vecchi da loro erano freschissimi no e quindi si dico avevo un'altra concezione mi piacevano i beat con i sample con le vocine campionate insomma altri tipi di flow e poi c'era molto questa roba del del messaggio che non vuol dire necessariamente scrivere la verità sulla vita o il messaggio politico che è roba che io non ho mai fatto no però proprio l'accuratezza dello scrivere le rime no della struttura delle robe no ad oggi invece comunque la musica è cambiata molto e per quanto io comunque continui ad essere uno di quella scuola lì che comunque sceglie molto accuratamente quello che scrive però comunque anche io nelle volvermi ho fatto delle scelte a volte che comunque possono sembrare più frivole no nel senso che magari scrivo un pezzo che ha delle belle punchline però comunque è un po più affine no al mondo attuale oggi del suono e quindi va a capire c'è uno che ascoltava i lipset se sentisse quello di prima comunque no dove canto volto giù ma adesso la cosa direbbe forse direi che fa schifo che è commerciale come quasi tutto quello che tra un altro molto anch'io molto fissato molto quadrato per quanto non si potesse immaginare perché appunto come diceva in prima ero uno con la canottiera e piasing le robe però quando si parlava di rap diventava molto serio no c'è ho sempre comunque apprezzato il talento e ho sempre riconosciuto le qualità di ognuno no magari dicevo guarda non mi piace però riconosco che è veramente un fenomeno no e quindi direi questo direi cazzo forse se mi schilla però alcune delle robe che scrive magari non le condivido anche perché una volta ero piccolo oggi comunque sono dieci anni più grandi no e se tu invece potessi oggi ripartire da capo da quale disco ripartiresti? è una bella domanda ripartirei da Ketamusic perché comunque vorrei divirmi tutto quello che ho vissuto in questi dieci anni di musica che sono i dieci anni più belli della mia vita no ho avuto delle emozioni fantastiche grazie alla musica perché mi ha portato in giro per l'Italia e non solo mi ha fatto conoscere delle persone mi ha acculturato molto perché tramite la musica poi ho imparato tante cose e quindi dovendo scegliere diciamo un disco da cui ripartire proprio nella mia vita in generale scegliere quello perché vorrei rifare tutto quello che ho fatto ci sono dei singoli delle canzoni che è un po' come se macchiassero nonostante il successo che hanno fatto è un po' come se macchiassero la carriera di un artista assolutamente un'altra volta mi parlavo con Fibro e lui mi diceva tranne te è la canzone che ha un po' macchiato la mia carriera tu pensi anche che nella tua carriera sia successa questa cosa qui e se tu potessi tornare indietro rinunceresti a quella hit oppure la faresti comunque allora sì ho delle macchie nella mia carriera che ovviamente dal mio punto di vista perché poi devi vedere come dire ci sono le macchie che vede il pubblico e le macchie che vedi tu probabilmente per il pubblico rap parole di ghiaccio è una macchia sulla mia carriera per me non lo è perché per me è una bellissima canzone è rappata bene e chiunque dice il contrario non è un obiettivo è scritta bene suonava un po' di UK era un po' quella roba che faceva B.O.B. ai tempi però comunque un bel pezzo rap e quindi dico non lo è chi mi dice ma la cana è un po' una macchia sulla tua carriera e ti dico effettivamente un po' lo è ma non perché fosse una canzone fatta male però effettivamente comunque è abbastanza frivolotta parlava dei mondiali di calcio e appunto per questo motivo non era nata da me poi chi non lo sa lo capirà tramite questa intervista però nacque come un lavoro su commissione per Sky in quel periodo lì lavoravo a Sky facevo questo programma di calcio e quindi loro avendomi internamente mi hanno chiesto la cortesia di fare una canzone che fosse un jingle per i mondiali di Sky quindi io ho fatto questo lavoretto che era un po' il compitino era quasi il favore in amicizia diciamo va bene ve la faccio io chi si immaginava che sarebbe diventato una IT invece popolare però tu mi hai fatto un'altra domanda e mi dici ma la rifaresti comunque e ti dico non lo so perché comunque da una parte mi ha portato appunto qualche critica qualcuno ad oggi perché poi è la canzone più famosa la canzone di me quasi cioè non so come dire Raffaella Carrà quando la conobbi mi disse io conosco Maracanà non conosco le altre canzoni quindi da una parte mi ha portato male però dall'altra mi ha portato anche tanto bene cioè io tramite Maracanà probabilmente sono finito a fare il coach a the voice capito no che automaticamente ha portato altra popolarità ha portato dei soldi perché poi non bisogna fare l'ipocriti no comunque tutti vogliamo campare anche il punto di vista economico è molto importante tutti ci provano oggi forse fa meno male dirlo perché anche i ragazzetti no se la milano per i soldi vestiti una volta ti ricordi se lo dicevamo no ah guai devi rimanere povero underground no invece no comunque sono importanti anche quelli e ti dico boh diciamo che mi dispiace che come tutti gli artisti o quasi tutti gli artisti io sia più conosciuto per le canzoni meno belle che ho fatto ci sono delle cose che facciamo nella vita che servono a riparare degli errori fatti in passato errore è una parola che utilizzo per semplificare tu credi che Keta Music 2 sia uscita in quel periodo storico in quel momento proprio per dire a quel pubblico che prima non ti conosceva oppure che ti conosceva solo per Maracanà e al pubblico che poi ti ha seguito nella tua carriera e ha iniziato a dire le mischilla di Maracanà è uscita un po' come a dire a loro no guardate che io sono ancora la mischilla di Keta Music oppure era proprio un'esigenza tua ma guarda Keta Music 2 come terza stagione nasce da una saturazione diciamo io sono arrivato appunto a quel punto della mia carriera che non è questo ma è quello di qualche anno fa in cui comunque ero appunto dopo Maracanà all'apice diciamo comunque chiunque meno male in strada mi beccasse sapeva chi fossi perché comunque insomma il pezzo andava molto bene e tramite quel pezzo come dicevo poi sono stato tanto ospite nelle televisioni eccetera eccetera quindi ti dico per quello ti dico forse è stato l'apice della mia carriera e questo porta anche appunto a una saturazione nel senso che una certa io non ce la facevo più perché comunque quando diventi un personaggio pop se vogliamo che non vuol dire che fai musica pop ma diventi popolare ti devi dare una ripulita non ce n'è nel senso che quando vai in televisione non puoi più fare i versi, le mosse devi essere comunque composto perché se sei intelligente capisci che ti stai rivolgendo a un pubblico a 360 gradi e non stai parlando soltanto ai ragazzi che ti hanno seguito fino a lì anzi se sei furbo sfrutti proprio quell'occasione per cercare di arrivare a tutti quanti ad allargare quello che è il tuo pubblico però questo mi ha fatto esplodere perché comunque era arrivato a un punto in cui veramente poi avevo comunque un team di tante persone che lavoravano dietro di me che magari per il mio bene mi facevano fare delle cose non che non condividessi, però a volte magari io me ne sarei fregato di più dal banale non andare in televisione col cappellino che è sempre il solito rapper c'è una bella pettinata che sei bello e io a volte il mio manager mi prende per il culo tutt'ora e dice tu quando sei fatto così sei strada riesci a portare il cane ventuta non te ne frega niente che ti ferma la gente e ti fa le foto perché te comunque sei fatto così e questa cosa qua però poi un po' nel bene e nel male si ripercuote anche sulla mia carriera a volte magari più le robe un po' sottogamma che non vuol dire che vado in televisione vestito male capisci? questo è soltanto uno degli esempi però tutte queste robe anche ma non dire quella roba nella canzone perché comunque adesso l'ascoltano veramente tutti c'è un po' pesante quella roba oppure ma non scrivere su internet che ne so vaffanculo gli sbirri perché comunque adesso magari anche gli sbirri sanno chi sa cioè sono una serie di cose io ne ho certo detto ma sai cosa c'è andate a fare in culo tutti ma tutti proprio casa discografica, il pubblico, la televisione il manager no perché è mio fratello però veramente sono arrivato a quel punto lì quindi ho detto basta adesso faccio il mixtape, faccio il disco come volevo è stato comunque dal punto di vista professionale un errore e non mi vergogno ad ammetterlo perché comunque prima di cominciare questa intervista te lo spiegavo un po' a voce questo ha portato appunto poi a fare dei dischi che comunque fossero più rap più nostalgici, più in linea con quello che comunque è la mia personalità anche nell'ambiente diciamo hanno tutti i miei colleghi non dico che hanno gridato al miracolo perché comunque oggi c'è tanta roba però tutti hanno apprezzato mi arrivavano un sacco di messaggi bello il disco, bellissimo il più bel disco che hai fatto e questo è stato sintomatico del fatto che è il disco che ha vendito di me capisci cosa voglio dirti perché probabilmente è vero io penso che terza stagione da fan del rap sia il mio disco più bello però se mi metto nei panni del pubblico non è il disco più bello capisci cosa voglio dirti è il disco meno versatile è meno per tutti è inrecchiabile quindi ti dico sono contento perché comunque non è che sia andato male voglio dire comunque è uscito è andato prima in classifica insomma però ti dico obiettivamente potevo essere un po' più furbo la mettiamola così però io a quel punto lì come ho detto più volte anche nelle interviste che mi hanno fatto proprio inire il disco e là davanti a un bivio o continuo per questa strada e quindi soprattutto uscendo poi da The Voice dopo che avevo fatto il coach potevo scegliere la strada un po' più pop e quindi fare il furbo vendere ancora un sacco di dischi fare le canzoni inrecchiabili e via dicendo oppure fare i miei porci comodi chiamiamoli così io ho scelto di fare i miei porci comodi perché per quanto se ne diciamo il rap mi piace troppo questa cosa e essendo costretto diciamo a vivere comunque in un paese come l'Italia a volte sono anche costretto non dico ad assecondarli però a trovare un compromesso tra quello che piace a me e quello che piace a loro che non vuol dire fare roba che non piace a me no e io a volte questo non riesco a farlo a volte sono troppo egoista e faccio la musica che piace a me è come se a volte in Italia la gente si dimenticasse che fare rap è un lavoro che fare musica è un lavoro molte volte quando si pensa a far rapper come se fosse un hobby no e si dimentica che un artista che ad un certo punto lavora con questa roba deve anche camparci e quindi se fai la pubblicità è perché ci vuoi campare non perché ti stai vendendo se fai una determinata cosa è perché ci vuoi campare e tu dicevi prima delle responsabilità arriva un certo punto in cui hai anche delle responsabilità arriva a una certa età dove dicevo io devo fare dei dischiato per vendere guadagnare dei soldi per mantenere una famiglia e mantenere a me stesso scusate cazzo che mi chiamano gira il mio numero di telefono se vuoi tienilo prendo un'intervista tutti quelli che mi chiamano devono andare a rubare sì la gente spesso si dimentica che questo sia un lavoro ti dicevo che ho delle responsabilità perché è vero se una volta comunque ero un giovane ragazzo appunto comunque che sta fuori in Milano e vivevo con mia mamma alle case popolari ma comunque non dovevo preoccuparmi quasi di niente visto che andavo a lavorare passavo qualche soldo a mia madre oggi comunque è cambiata la storia nel senso che vivo a casa mia da solo ho una casa ho un mutuo perché la gente poi pensa che siccome fai un po' di soldi con il rap allora tipo love daddy voglio quella e compri la villa non è così io sì ce l'ho la villa però la sto pagando in anni e anni di mutuo non è che me la compro così e ho una macchina ho le moto ho mia mamma che comunque oggi le passo di soldi non so come dire non vuol dire che comunque lei ci spera non so come dire ho abituato tutti comunque c'ho il cane c'ho tutti il mio tenore di vita non vuol dire che vado in giro a buttare i soldi però anche io mi sono abituato comunque meglio rispetto a una volta nel senso che se adesso voglio andarmene in vacanza o uscire una sera a cena non mi devo preoccupare io dico io non c'ho voglia di tornare a casa con mia mamma alle case popolari non c'ho voglia che mi ritirano la casa perché non pago più le rate del mutuo o la macchina o la moto cioè sto troppo bene così quindi alla fine dici da una parte c'è l'orgoglio che ti dice sì però tu sei un po' come il lottatore che li vede combattere presenta il pensionato e dice no voglio tornare a combattere ma poi prendere cartello in faccia perché ormai è vecchio e dall'altra invece c'è quello che è il sentore giusto cioè diciamo l'angelo guida quello il buonsenso chiamiamolo così che ti dice senti ma fotti pensa a portare a casa la pagnotta a fare tecora perché tanto a nessuno di questi frega niente veramente ed è proprio così te lo posso giurare cioè nessuno frega niente perché ti dicevo ok bello il disco grande gente dell'ambiente tutti siamo un mito in realtà questi mi spiace dirlo ma quando hanno sentito il disco hanno tirato un sospiro di sollievo perché hanno visto che non c'era dentro la hit commerciale e hanno detto oh meno male che quest'anno Killa non ce l'ha buttato al culo un'altra volta perché ci sperano tutti capisci cosa voglio dirti e questa roba che sto dicendo so che sarà antipatica a tanti dei miei colleghi perché tanti diranno no no non è vero ma invece è vero perché li conosco e quasi tutti quasi quantomeno quelli che sono comunque mainstream provano a essere pop in qualche modo a fare la hit a passare per radio andare in televisione a voler suonare al forum di assago per intenderci piuttosto che voler suonare dove suoniamo noi che sia l'arca grazie ai magazzini in generale e che cazzo stavo dicendo mi sono perso di questa parola delle responsabilità delle robe e quindi ti dicevo capisci è una certa io se faccio comunque questo ragionamento dico no io devo essere furbo che non vuol dire essere venduto vuol dire essere furbo vuol dire posso fare della bella musica e allo stesso tempo venderla se la cosa mi interessa di fare le rime le triple rime che non capisci nessuno non capisci oggi negli Stati Uniti Kendrick Lamar fa pezzi con Taylor Swift e i Migos fanno i pezzi con KTPR esatto in Italia questa cosa non è ancora vista bene nel senso che quando tu poi cerchi di parlare ad un pubblico anche più ampio perché non è scontato che tutti sappiano chi sei no il problema è quello perché prendiamo Kendrick Lamar no si dice fa un pezzo con Kendrick Lamar hai detto no ah tra l'altro l'ho sentito ho capito di che pezzo parli lì cosa succede che lascia stare che poi le teste di minchia ci sono anche lì quelli che dicono ah ho venduto però fondamentalmente il pubblico è più pronto quindi sentono il disco di Kendrick Lamar sentono il pezzo con Taylor Swift e magari il fan dice oh sai cosa c'è a me è questo pezzo di Kendrick che non mi piace però chi se ne frega tanto io lo so che poi mi fa un'altra roba poi Kendrick esce con DNA e tutti se la pompano dicono ah finalmente ha fatto una roba perché lo sanno che è questione di farli contenti tutti dicono vabbè Kendrick è uno grosso non può mica fare soltanto i pezzi che piacciono a me quindi ok ho fatto questo pezzo con Taylor Swift qua no qua è o con me o contro di me tipo il fan la vede così o fai contenti loro o fai contento me però non può essere così io prendo sempre Drake come esempio che è quello si acclatante che fa i pezzi repati e poi fa Passion Fruit piace a tutti fondamentalmente poi anche lì non so quando per esempio c'era il beef call con Mick Mill ti ricordi qualche anno fa io ero a New York che tra l'altro è una città che conosco bene dove vado spesso ho tutti questi ragazzi Brooklyn di Brooklyn questi miei amici e loro che comunque appunto sono molto no ghetto stavano dalla parte di Mick Mill però io lo so che il pubblico medio non sono i miei amici di Brooklyn capisci cosa voglio dirti e quindi una certa devi scegliere che cosa voglio essere a proposito di scegliere Kendrick ha fatto un pezzo con Taylor Swift i Migos con Katy Perry e Miscayla se potessi scegliere con chi sceglieresti di fare un pezzo in Italia o fuori in Italia è fuori con un artista che però non è che non piace ai tuoi amici di Brooklyn allora in Italia l'ho detto più volte penso che mi piacerebbe fare un pezzo con Lorenzo con Giovanotti perché è uno che mi piace da sempre insomma da una parte è segnato la mia infanzia dall'altra è uno che tuttora mi piace quando fai i pezzi mi piace cosa scrivi mi piace lui insomma è comunque il mio cantautore preferito italiano per quanto riguarda invece l'artista straniero che questa è una domanda sai poi mi sento sempre un po' piscalo quando mi fanno sta domanda che tipo lo dice ti fanno però boh non lo so mi piace molto Drake mi piace mi piace molto Rian insomma sono tutti quelli che sono un po' le pop star diciamo Drake probabilmente dovessi sceglierne una fare una roba con Drake mi schilla Drake ora ti faccio una domanda un po' strana adesso cerco di comporla facciamo finta che in questo momento le tue doti canore e hip hop le mettiamo tutte in quel bicchiere ok e tu adesso smetti di rappare tu quel bicchiere a chi lo daresti nella scena rap italiana dire ok io oggi smetto di rappare però voglio che tu porti avanti il mio messaggio porti avanti le mie doti tu questo bicchiere chi lo lasceresti oggi? di quelli che conosciamo? chi vuoi tu? a Vegas di questi che diciamo dovendo fare un discorso per voi diciamo di stona quindi comunque che chi ci sta guardando capisca anche cosa sto dicendo di collogare a Vegas che è quello che un po' mi ricorda anche me se vogliamo di tempi anche un po' azzarro insomma di cinisello uno che comunque rappa bene molto bene è un bravo ragazzo questa è una cosa che per me è molto importante ci vengo a dirlo è uno che comunque si è rivelato una brava persona uno che non è un montato non è uno che sputa dove ha mangiato insomma uno che si sa comportare bene dovendoti invece fare un discorso un po' più personale ti dico probabilmente sceglierei qualcuno cioè sceglierei il bravo ragazzo il classico che dico che ha la testa per fare le cose no pertanto le doti le do io capisci se questo è il bicchiere non ha bisogno lui del bicchiere io lo do io sceglierei uno che ha la testa piuttosto che che altro oggi è veramente difficile trovare dei ragazzi che si sappiano comportare capisci non ci capiamo a volte perché in dieci anni è cambiato veramente tutto quindi chi è preso da internet chi è preso dai vestiti chi no però dico cazzo ma te non ti interessa fare questa roba della musica cioè io avevo soltanto questo in testa ma veramente io lo racconto sempre perché poi è come dire è una cosa icona di quella che è stata la mia carriera io tanti anni fa la mia ambizione più grande era poter registrare i pezzi perché ogni volta dovevo andare dall'amico che abitava a Grattosoglio e io magari capito stavo a Vimercats dovevo farmi un'ora e mezza di mezzi per arrivare a casa sua per registrare un'astrofa da 16 e quindi il mio sogno era poter registrare le cose a casa mia quindi andai a far tutte le gare di freestyle dopo il Tecniche Perfette che comunque avevo più da perdere che altro perché ero l'unico diciamo che che fossi gli altri erano tutti i ragazzi magari del posto andai a far tutte le gare a pagamento diciamo quelle dove comunque vincevi i soldi e quando accumulai diciamo una piccola cifra di soldi avevo diciamo due scelte o andavo in vacanza o mi compravo il microfono eccetera eccetera io ovviamente ho scelto di comprare il microfono quindi non sono andato in vacanza sono rimasto tutta l'estate a casa a scrivere a registrare di pezzi perché mi piaceva questa cosa trovo adesso un ragazzo di 17 anni che adesso probabilmente gli dai mille euro al ragazzo va da Gucci gli compra due polo e poi esce e poi le mette su Instagram perché hai cambiato l'attitudine capisci e oggi invece io oggi cercherò uno che si comprerebbe il microfono e gli dare il bicchiere facciamo il gioco della verità vai mi devi rispondere proprio sincero vai per te Ketha Music volume 1 è il miglior mixtape del rap italiano no qual è il miglior mixtape del rap italiano mixtape penso Fast Life 2 di We Fast Life volume 1 nel 3 ci sono anche io però al 2 resta il più bello io sono diventato un fan di Gua da Fast Life volume 2 io dal 1 prima lo conoscevo io comunque sono cresciuto per me mi fista l'album che più mi ha segnato nel pop italiano quindi ero un fan dei Dogo però Gekla Furia è sempre stato il mio rapper preferito Gua lo consideravo un mostro però l'ho sempre messo in secondo piano rispetto a Gekla quando ho sentito Fast Life volume 2 sono impazzito ho detto no ragazzi troppo bravo la Rari si è diventato un fan di Gua fantastico e invece Erba Cattiva è il miglior album del rap italiano potrebbe essere e con chi se la gioca ma la domanda e come faccio a rispondere a questa domanda per me personalmente Marrakesh di Marrakesh è Erba Cattiva ti ringrazio no perché per esempio Marra ecco Marra è uno di quelli che mi piace tanto però secondo me Marrakesh non è il suo migliore album ok King del Rap a me piaceva tantissimo di Marra che è uscito tra l'altro qualche mese prima dell'Erba Cattiva no però dicevo come faccio a risponderti perché ti dicevo Mi Fiste è un album della Madonna ma è 10 anni più vecchio quindi come fai a comprare le notti però ti dico sicuramente questo è in dubbio è stato l'album dell'anno però diciamo di quel periodo lì potrebbe essere il miglior album sempre gioco della verità c'è una canzone di un altro rap che conosce a memoria sì miliardi tipo una eh non lo so sto pensando quelle di Bassi vecchie Bassi è uno che ha ascoltato tanto quindi le canzoni di Bassi penso di saperle appunto quelle di Mi Fiste vecchie insomma tutto il rap italiano che ascoltavo quando ero sbarbo oggi il rap italiano lo ascolto poco sicuramente so qualche bar comunque tuttora non è che io ignoro non faccio quello adesso rimando a dire no io il rap italiano non lo ascolto sto cazzo io l'ascolto perché voglio vedere cosa fanno i miei competitor no qualcuno mi piace anche però sì ci sono canzoni che sono le morie io amo sempre fare questo giochino facciamo finta che io trovo una macchina nel tempo qua fuori ok torno indietro nel tempo e incontro Amy Schilla di non fa per me con il ragazzo davanti al muretto da una foto con gli occhiali e gli dico Amy Schilla guarda che tu fra dieci anni avrai venduto 200.000 copie tantissimi dischi d'oro singoli di platino avrai una villa riuscirai a mantenere tua madre comprarti la macchina che ti piace quella mischilla cosa mi risponderebbe tu dici che dentro di lui un po' se lo sentiva oppure sì assolutamente me lo sentivo assolutamente non è il successo che mi hai scelto fra l'ho scelto io lo dico pure in una canzone io dico quasi sempre quello che penso me lo sentivo mi sentivo che quantomeno sarei diventato una mosca bianca per quello che era appunto il mio ambiente non mi aspettavo che che avrei fatto comunque qualche soldo con la musica che avrei venduto tanti dischi perché questo non succedeva nel rap in generale però probabilmente la prima cosa che ti avrei chiesto è ma hanno finito finalmente di rompermi le palle o pensano ancora che io non sappia le palle ti avrei chiesto questo le mischilla di un tempo ti avrebbe chiesto quello e cosa è cambiato le mischilla di prima le mischilla di adesso una cosa evidente una cosa evidente sì l'atteggiamento un po' mi sono comunque cresciuto molto sono meno arrogante che non vuol dire che una volta non fossi umile però non lo sembravo per niente ancora adesso qualcuno pensa che io me la tiro quando in realtà ho solo un po' la faccia da mandaraccia quindi a pelle magari possono piacere a qualcuno invece oggi sono molto più posato sorrido molto di più alle persone una volta invece ero sempre imbruttito artisticamente che intendo nella vita? nella vita artisticamente ma nella vita questo che ti ho appena detto artisticamente diciamo che forse oggi sono meno stupito da me stesso oggi scrivo le cose magari sono belle e poi dico sì l'ho già detto l'ho già fatto l'ho già visto oggi sono più preso dall'emotività che trasmetto una canzone cioè se scrivo una canzone che racconta qualcosa che ho vissuto veramente la trovo una bella canzone che non vuol dire che una volta scrivevo storytelling a caso però magari una volta facevo le rime le punchline mi piaceva comunque una canzone oggi penso che una canzone per piacere mi debba dire qualcosa e dopo tutta la frustrazione che porta il successo dopo tutte le rotture di coglioni che porta il successo le interviste dove parli con gente che non ti capisce e che non sa cos'è il rap dopo le rotture di palle magari della mamma che ti mette il bambino in braccio e tu per le sorelle che io sono e mi schilla dopo te ne racconto ora e dopo tutto questo hai mai pensato di smettere di fare musica? ti hai mai pensato io non volevo tutto questo oppure no la musica è sempre quando dici smetto è come quando li tigli con la donna e dici mi hai rotto le palle e ti mollo ma non lo pensi magari se sei innamorato direi lo stesso per la musica a volte sì magari fa fare un momento di saturazione anche appunto con il mio manager che ho sentito mi hanno rotto le palle tutti e mi torno in quartiera a fare i cavoli miei mi vanno tutti a quel paese però poi in realtà mi passa dopo 50 secondi poi ho il carattere così sono dal peggio di me per 5 minuti e poi torno come se non fosse successo niente oggi ascoltando tutti parlare ho avuto forse la sensazione che tu comunque adesso tu stia già lavorando qualcosa di nuovo assolutamente sì quindi io possiamo più dell'intervista così quindi io dai mi schilla nel 2017 mi aspetto che esca o forse un album o un mixtape o qualche singolo nuovo allora non so che se nel 2017 c'era un disco nuovo perché sai non sai mai quando finisce il disco io poi fin quando non sono contento non lo chiudo non è che faccio quei dischi dove ci metti dentro le tracce e riempi i disco appunto e dici boh ho 15 tracce e lo butto fuori per terza azione ho fatto 40 provini figurate quindi dico boh mi piacerebbe uscire con dei singoli nuovi sicuramente anche perché oggi è essenziale la nuova scena è attivissima cazzo fanno un video ogni due settimane poi siete perché voi siete in realtà siete il team di Gali quindi parlando a voi dico siete tutti sul pezzo di brutto siete super organizzati non è facile comunque quindi mi impegnerò diciamo di stare un po' anche al passo dei tempi quindi di far uscire della roba nuova che non necessariamente deve essere il disco perché anche qui è cambiato un po' questa roba della cultura se una volta comunque potevi permetterti di fare il disco ogni tot adesso no piuttosto fai il singolo che comunque adesso ormai il web è molto influente i ragazzi ascoltano tanto Spotify e guardano YouTube quindi insomma da una parte è anche meglio io ho sempre detto una volta parlavo con Marla e dicevamo forse per me non faremo anche più dischi ma questo ti parlo già di 4-5 anni fa mi piacerebbe fare i singoli che tanto poi la gente ai concerti canta quelli finché non fai il video ancora un po' non conoscono manco le canzoni quindi lavorerò sono in una fase un po' sperimentale ti dico la verità sto cercando di capire anche io che cosa voglio fare perché non è non è semplice di certo è che non posso essere il vecchio me ad oggi e non posso essere quello che si mette in competizione diciamo con i ragazzi di oggi perché comunque è un mondo che non mi appartiene posso magari sì posso prendere qualcosa dal suono perché mi piace perché ascolto anche io quella roba però non ha senso uno perché non sento di dover dimostrare delle cose e due perché comunque non è il mio io sono cresciuto con un'altra impostazione loro lo fanno meglio di me quel tipo di rap e quindi va bene così penso che adesso sia importante affermarsi scrivere delle canzoni belle fare un disco che sia bello perché le canzoni poi hanno sempre ragione a prescindere da tutto come dire spero in questo piuttosto che fare un disco che magari sia vendibile ma brutto preferisco fare un disco che magari venda qualcosa meno ma che lasci contento chi lo ascolterà grazie mille mis figurati grazie a te grazie grazie